Quanto sei soddisfatto tu di questa prestazione ed è più importante questa vittoria del 5-0 dello scorso anno dell'Inter per come è maturata? Io penso che sia una vittoria importantissima, ma soprattutto è che io sto bene, ho fatto bene stasera. Per fortuna le gambe hanno tenuto e dopo tanto tempo per fortuna sono rientrato dal primo minuto. Ti ha richiamato tante volte l'allenatore per darti indicazioni in campo, avete sofferto un po' questa sera la grande intensità del genere? Un po' l'abbiamo sofferta, anche perché negli ultimi 20 minuti erano in quattro attaccanti, addirittura saliva sempre anche Dainelli, quindi è stata molto dura, però sono tre punti importantissimi per noi. Il Milan deve ancora giocare, però stasera rifà un passo in avanti, l'Inter ci si avvicina al derby, può mandare un messaggio a Cugini? Ripeto, questa vittoria è importantissima, noi non pensiamo agli altri, pensiamo noi stessi e l'importante è che abbiamo vinto stasera, basta. Grazie